E' all'interno dello spazio davanti alla chiesa di Quattro Strade in compagnia del nostro amico Alessio Angelucci per parlare di un'iniziativa che magari non avremmo mai voluto parlarne Alessio, però è anche vero che tante volte bisogna prendere coraggio, prendere in mano la situazione, cercare di fare delle iniziative che poi portino dei risultati. Stiamo parlando di un'iniziativa, uno spettacolo teatrale che porterete in scena venerdì prossimo il 16 settembre per raccogliere fondi per tutto quello che è successo in questo periodo ad Amatrici, Accumoli. E' inutile dire che questa situazione abbia toccato noi reatini in un modo particolare, è vero a noi dispiace sempre quando accadono questi fatti, abbiamo ancora il ricordo fresco dell'Aquila o di altre situazioni, però poi è terribilmente diverso quando questo avviene dentro casa tua. E così com'è diversa la reazione emotiva, sarà brutto dirlo, ma deve essere anche diversa la risposta in termine pratico, concreto, perché la nostra terra ha già molte problematicità per conto suo. Certo il sisma non aiuta e non aiuterà neanche nel futuro, però come dici tu, non si deve bloccare la vita, non si deve bloccare la nostra quotidianità. Allora noi come gruppo teatrale abbiamo pensato di fare questa iniziativa, ecco Sipario Rosso in genere fa ridere, adesso ci costerà parecchia fatica strappare qualche sorriso, però sapendo qual è il fine, sappiamo che qualcuno dall'alto ci autorizzerà per questo. Il 16 settembre tra l'altro a Rieti ci saranno anche altre iniziative e questo è meraviglioso perché è indice di una città viva, di una città che riesce a proporre più eventi diversi fra loro, perché non si sono incontrate due commedie o due, si sono incontrati degli appuntamenti diversi fra loro capaci di raccogliere ogni gusto diverso dei nostri concittadini. Quindi poi siamo 50.000 a Rieti, sarebbe bello dividere 50.000 per tre, tanti sono gli appuntamenti che ci sono, forse riusciremo a ricostruire ad Amatrice con 5 minuti. Quindi quello che io rivolgo, ecco come appello a chi guarderà questo momento che Maurizio ci concede, è di essere presenti, di partecipare. L'offerta è libera, sai perché Maurizio? Perché in questi momenti non è importante quanto, ma è importante dare a prescindere. La persona che può dare uno è giusto che dia uno, però chi può dare 100 è giusto che dia 100. Allora l'offerta libera non vincola nessuno ma a buon cuore di tutti si può dare quello che più le proprie possibilità concedono. E sarà adesso uno spettacolo teatrale vero e proprio, non una solita tua performance o una commedia come noi siamo abituati a vederti, a seguirti? Sarà qualcosa di diverso, che tiene conto del momento. Noi desideriamo regalare dei sorrisi, ma desideriamo anche far ridere in maniera rispettosa della situazione attuale. Quindi ci sarà sicuramente un sorriso strappato, ma ci sarà anche un momento per riflettere. È giusto che sia così adesso, ma state tranquilli perché Sipario Rosso anche in questo momento vi saprà consolare. Ecco, senza anticipare niente, perché ci sarà anche un momento musicale, di poesia? Sì, beh, abbiamo unito quelle che sono le grandi caselle della reatinità e dell'arte reatina. Noi siamo famosi, pochi lo sanno, per delle meravigliose poesie, anche di Pierluigi Mariani, che sono state oggetto di tesi, di lauree alla Facoltà di Lettere a Roma, ad esempio. Abbiamo delle meravigliose poesie di Vincenzino Marchioni, abbiamo delle simpaticissime canzoni di Marco Nicchio, abbiamo delle commedie contemporanee. Ecco, io ho cercato di mettere insieme tutte queste cose e di cucire uno spettacolo all'altezza del momento. Vediamo. Allora, abbiamo detto dove, a quattro strade, nella sala teatrale, dicelo tu, forse un po' più. Vorrei ringraziare per questo, Maurizio, il nostro parroco, Monsignor Mariano Assogna, che davanti alla nostra richiesta di Sipario Rosso si è subito messo a disposizione, ma non avevo dubbi. Tra l'altro, Monsignor Mariano è di Leonessa, una zona molto vicina ad Amatrice, insomma, ci siamo sentiti all'indomani del sisma e l'ho sentito molto, molto provato da questa vicenda. e quindi subito ci ha messo a disposizione il salone parrocchiale di quattro strade. Eccolo qui, lungo via Martiri delle Fosse Reatine, c'è l'ingresso della chiesa e ecco qui. Alle nostre spalle c'è il teatro parrocchiale, un bellissimo teatro, dove io ho iniziato a fare teatro 23 anni fa e torneremo qui per questa meravigliosa iniziativa. Quindi grazie a tutti coloro che verranno, al nostro parroco, alla chiesa di Rieti e a tutti noi. Bene, abbiamo detto quindi venerdì 16 settembre, dalle ore? Dalle ore 21, offerta libera, quindi troverete il famoso bussulotto all'ingresso, dove ognuno metterà ciò che può, ciò che vuole e poi passeremo questa serata insieme, sapendo che tutto andrà ad Amatrice ed Accumoli. E io sottolino sempre, Amatrice ed Accumoli. Grazie. Grazie.